Capitale italiana della cultura 2024, Cittadella, unica realtà della provincia di Padova, ci prova, assieme alle colleghe Venete, Vicenza, Asolo e Chioggia, che rientrano nella rosa delle 24 candidate in tutta Italia. Cittadella, città murata, ha festeggiato nel 2020 gli 800 anni dalla fondazione della storica Cinta Muraria, cantata anche da Dante Alighieri. Ora dovrà presentare il suo progetto che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti nella gestione dei beni culturali. Chi vincerà avrà a disposizione un contributo statale di un milione di euro e la possibilità di mostrare tutte le sue bellezze e le sue peculiarità.